Allora, si avvicina Natale e tutti cominciamo a sceverlarci per fare i regali per questo evento eccezionale che capita una volta all'anno. Allora, cosa regalare, cosa non regalare, ma adesso come gli faccio e cosa... Allora, signori, la cosa più semplice qual è? È brutto dare dei soldi, no? Ti va a te, comprate quello che te pare. Ci sta Amazon, cioè Amazon che fa dei pacchetti regalo per tutte le tipologie di... di persone. Quindi non avrete più problemi, è un regalo futuristico, diciamo, perché ormai chi non ha internet, chi non ha un computer, chi non ha il cellulare. Quindi, signori miei, regalare un pacchetto Amazon è la cosa, secondo me, più bella che esista. Link in descrizione, intanto guardate questo piccolo video, vi faccio vedere un po' la schermata, come funziona e tutto quello che è. Vi ricordo che c'è il link nella descrizione per poter accedere direttamente sulla pagina di Amazon, quindi senza problemi potete scegliere il pacchetto che più vi aggrada, che volete regalare a colleghi, amici, nipoti, insomma, chi volete. Guardate questo piccolo video e poi ci rivediamo dopo. Spedizione gratuita, ci sono di vari prezzi, questo è da 100€, arriva il cofanetto, potete scegliere anche, vedete, le varie confezioni, arriva una card da poter spendere su Amazon, puoi comprare tutto che vuoi. Questo è da 100€. Allora, disponibilità immediata, qua ci sono tutte le caratteristiche, poi ci sono altri suggerimenti, che ne sono da 30€, vedete, ci sono anche da 10€, da 20, insomma, ce ne sono tantissimi. Il link per entrare a comprare questi regali ve lo fornisco io e ve lo metto sotto nelle descrizioni, quindi andate lì, cliccate il link e poi girate per Amazon a cercare il pacchettino che più vi piace. Regalo molto originale, diciamo che ormai è di grande successo Amazon, quindi è una cosa bellissima regalare dei soldi da poter spendere a qualcuno su Amazon, come gli pare piace, anche perché poi c'è sempre la difficoltà nel fare regali, ma gli piacerà, non gli piacerà, invece fate questo cofanetto, come volete voi, guardate quanti sono carini queste confezioni, ci sono 1900 recensioni dai clienti, 4 stelle e mezzo, guardate, quindi è una cosa eccellente. Allora signori miei, adesso questo video l'ho fatto perché siamo in prossimità del Natale, ma chiaramente lo potete utilizzare, questo link sotto nella descrizione lo potete utilizzare in qualsiasi momento, domani è il compleanno del vostro amico, tanto ci mettono un giorno a spedirvelo, scegliete il cofanetto che più vi piace, perché dentro il vostro amico, collega, nipote, chi sia, insomma, trova la card da poter spendere su Amazon e quindi non avrai più il problema di dire adesso che gli regalate magari un ombrello che è quello che vi pagherai, quindi ecco, per non incappare a queste gaff, ci sta Amazon. Quindi signori miei, link in descrizione, domani è il compleanno del vostro amico affrettato perché ci mette un giorno ad arrivare questa card. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!